Ma Un momento ci bastò Ci separò Tra meno di noi non c'è problema Andate sul sito di Radio 2 Scaricatevi tutti i podcast di Astrologica Lezioni comprese quello ovviamente di Marco Pesatori Ma non solo Anche l'oroscopone Marco stai buttando via della carta? Sì, i storici che hanno fatto la storia Attraverso la loro individualità Questo rincontrarsi tra individui Toccando questo spessore della storia Lo spessore della storia Stora buio Il mondo què Anche l'oroscopone Canceli Statimista Lezioni vatore Giustat Amore, un'automobile corre, non ci sono vete e lascia dietro sì, del fumo grigio amore, e questo, senti questo cuomo amore mio, e bruceranno tutti. A venirne fuori, grazie comunque Anna della tua telefonata, pronto? C'è un'altra telefonata? Un momento Radio Capri Innovativa nel piacere Radio Capri Classico Io vado preso, vado preso, e hai sempre la solita umore, per il mio limite A volte in modi estremi, mi sono fidato delle tue parole, dei tuoi silenzio Grazie a tutti It's true, yeah Stasera risotto, come? Ah, sei arrivata a casa tardi, tranquilla, l'ho preparato io per te, risotto scotti, due porzioni in 15 minuti, e io di risotti? Me ne intendo Dai Questi che le lasciano il dentifricio stropicciato? È vero, oppure quando Jack Lemo Lei mi ha parlato di nostra A Palazzo Farnese 150 opere tornano per raccontare 5 secoli di storie È lunedì 3 gennaio, buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria Iniziano in questi minuti a Roma i funerali solenni di Matteo Miotto, il militare italiano ucciso nei giorni scorsi in Afghanistan Andiamo da Giampaolo Latella, buongiorno Si, buona giornata Iniziano in Afghanistan Ah, grazie a tutti Sì Il mio Signor Bernie Signor Bernie Signor Bernie Signor Bernie Si Grazie a tutti Grazie a tutti Allora spieghiamo che cosa fa Pasquale Pasquale Tutti gli altri si danno i turni Pasquale è l'unica persona che fa Tutti gli ordini che faccio io Grazie a tutti 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 Allora Pasquale com'è questo lavoro? A me piace molto Io sono molto affezionato Usufruire di tutto lo spazio ma anche per garantirvi maggior sicurezza La distribuzione del trattamento La stuoia Total Body La riproduzione della digitopressione arriveranno stimolando quello che è E' stata verificata Di 90 centimetri sagomata Come vedete Easy Life cerca per voi le comodità per una vita facile, migliore, più sicura ma soprattutto per ridarvi il relax di un caldo bagno senza più nessun aiuto Stiamo parlando naturalmente della partita del Milan che ha vinto l'Emirates Challenge Cup battendo gli arabi del Al-Ali dove gioca l'ex capitano azzurro Fabio Cannavaro per due... Da questo momento 50 minuti di radio senza interruzione In questo momento siamo Federico e Marisa, sono le 11.00 Piacere! Situazione come del resto fa la Chiesa Questi sono comunque figli di Dio Sono comunque figli di Dio Situazione come del resto fa la Chiesa Erano in grado così di riferirlo a una determinata divinità Non mancavano mai di identificare la volontà degli dèi cercando di prevedere l'esito di imprese militari o di azioni politiche L'epatoscopia fu talmente apprezzata che anche i umani... Come una volta... 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 Sei più magro... La gente viene lì... Si gira... Guarda... L'hai visto che bello quello lì? Come una volta... 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti